Esamina Sto andando nella strada giusta Esamina Ah, sì Ecco fatto Ok Dai, forza Colpisce Colpisce Forza Colpisce Sta fermo maledetto Maledetto Sta fermo Ma che... Do... Oh Ti ho ucciso e ora stai zitto per sempre Anche questo è morto Esamina E vai stiamo arrivando Ecco Siamo arrivati Te trasporto di Goku Trio Trio Una cassa grossa Apri Non ho fatto il tempo a leggerlo Vabbè Ma sono dettagli La funivia La funivia Esamina Anche qui Non ho fatto il tempo a leggere Ora Accidenti L'apparata Ora Fai Fai Sei morto Come la... Come finirai Dove scappi Finirai come La... Il resto della tua razza C'è Dove vai Sì Sì Ove scappi A Tanto muori lo stesso morti e ora e ora pensiamo a questo con lo scudo che è forte però io lo sono di più attelo parata anche questo è morto ecco fatto esamina e ora la funivia entriamo qui non ho tempo da perdere per voi quindi per oggi vi risparmio scusate ma dovete andarvene perchè se non ho attivo il coso e andarvene e per farvi andare via vi devo uccidere Sonic aia tanto l'ho parata e ora ti attacco fuori e vai ti ho parato e tu muori ben detto no ho sbagliato tanto vi ucciderò anche senza paperino e pippo morto anche questo è andato anche questo è andato aia maschiattati tutti e ora e ora maschia e ora troppo devo immirare me è stupito anche se è moribile e ora prendi questo no maledetto ora ti uccido per sempre sciocco nessuno può competere contro 960 kill e ora sbrighiamoci ho lo special di star wars e varie cose la funivia siamo arrivati finalmente e qui incontriremo malefica e quella dovremo combattere ovviamente così finalmente il varco è visibile sì la serattura per l'oscurità aprendo l'aliente adesso vateranno questo mondo non importa lo scuritano poi niente su di me piuttosto sarò io ad usare tale poter produrre dominare tutti i mondi ma che sicurezza che bel capelli che hai oh che figata impossibile le precipesse del cuore sono tutte qui deve essere lei senza cuore non potrà mai spregionare il suo potere ora arriva malefica i buffoni del re penso io a loro tu resta qua a guardare a guardare delle principesse con la sua aurea da malvagio comunque ora andiamo avanti che c'è malefica da ammazzare mi dispiace siete in ritardo maledizioni tra poco l'ultimo ma la serratura la serratura sarà aperta questo mondo piomberà nell'oscurità non potrete fermarlo questo lo credite siamo arrivati qui a fermare tutto per riuscirci poveri poveri sciocchi pensati di poter sconfiggere me non lo penso è certo ma è la sovrana di tutti i mali fatti sotto allora se sei tanto potente perché scappare oh cavolo no l'attacco quest'attacco non mi piace ah ah però io te l'ho schivato aia e ora intanto ti colpisco atti intanto ciò colpito no l'attacco speciale ahahah mi hai mancato ah no obbligati colpiscomi a zero il potere dello scudo ti attacco ah almeno adesso so quanto stai perdendo sto perdendo io in questo momento hai fatto male in seguirmi aia ti sto colpendo oh cavolo parliamone aia io corro oh cavolo questi due sono forti apparata aia parliamone magia invoca invochiamo trilli praticamente il suo potere speciale è quello di farmi rigenerare la vita costante a me costante a mente questo attacco 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 o metter stupendo è attacco 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 ti sto massi muori morto questo ora pensiamo a male vieni qua se hai il coraggio attento ti sto colpendo ora sei al mio livello e quindi adesso ti colpisco ai mi è fatto male mi è fatto mi è fatto